Dovete voi comprendere che quando un principe dia commissione agli suoi artefici di realizzar dell'opere non sia per loro di rivizzo di comporre con vaghezza forme e proporzioni e di dar figura in vero agli miti e agli racconti popolari. Piuttosto il principe si rivolge a un letterato e nel caso nostro lavorammo con Benedetto Varchi, storico di segnalata fama, lo quale istruì tutti gli artefici nostri, Niccolò Pericoli, Ribolo, Pierino da Vinci e il nostro amato Giorgio Vasari, infaticabile, che anche in questo giardino si è cimentato. Grazie per la visione!